Pare proprio che sia scoccato un nuovo amore nella casetta di amici Maria De Filippi. Non si sta parlando di Mew e Matthew, che nei giorni scorsi si sono mostrati assai vicini e affiatati, bensì di Sara e Oli Francisco. Nel Daytime trasmesso mercoledì 11 ottobre 2023 i due ragazzi si sono scambiati il loro primo bacio. Il gesto ha fatto piuttosto scalpore. Ovviamente non perché un bacio sia un qualcosa di negativo, ma perché lui sarebbe fidanzato. A questo punto, forse lo era. Inutile dire che gli utenti affezionati al talent show di Canale 5 si sono sbizzarriti sui social, parlando di, secondo De Corna, nell'edizione in corso di Amici. Secondo te sono un bel ragazzo? Ha chiesto il cantante alla ragazza. Sì. Ha risposto la 17enne senza batter ciglio. Francisco si è poi confidato con... ... ... ... Grazie a tutti.